Vice Presidente, da molte tanti anni ho fatto un progetto nazionale sulle aree dell'Arcangelo. Sì, questo è un bellissimo festival che quest'anno assume una valenza particolare. Dalla città dell'Arcangelo Michele un messaggio di pace forte che si collega al San Michele di Kiev, a San Michele che è presente nello stemma della città di Kiev. Quindi un messaggio di pace e di solidarietà rispetto ad un popolo che sta subendo una oppressione ingiusta. E io credo che questi messaggi di cultura, di speranza da una realtà così bella come Monte Sant'Angelo possano essere utili per fare in modo che ci sia una declinazione della pace a tutti i livelli. Questo è ciò di cui noi abbiamo bisogno. Grazie. 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 Grazie.